Comprie Svi prolazi To nije validno, gospodine Što vi imate, to nije validno Evo ovdje 27.3. Izdatak Odgovor ministarstva Slušajte, i samo moment Hajde završiti Činim se 18.5. Ne 6. 18.5. Imam ja to rješenje I 28.5. Nije rješenje, već odgovor ministarstva Na upit Na upit U kojem se rješavaju Da su postojeća rješenja Dva ljude Naj교 god Okolišta im je oborena Problem je što je tri mjeseca bila u Latvice pa smo mi tek dobili šestom mjeseci Što je bila šestom mjeseca u Latvice? Grazie a tutti. c'è un'amorità, delle predmeti. 5. e 7. è un'amorità da suda, quindi il predmeto non è terminato. è stato il strancio che non può fuori ma è il strancio che non può fuori il strancio. Niente in sviluppo non può fuori non può fuori più. Questo è il fatto che non fanno più il suo pubiscio, ma non è la nostra città. Ci sono? Non abbiamo fatto la roba di caso. Evo quanto vedete, che qualcuno mi ha chiesto a doble su prvo urbanističku pa te konda možda nekad bezozni okoliški ovo imate nalog da vidite kakav nalog da ja sad malo svećam da mi dođete svoje kakav nalog ono je uodnjega u policijskoj stanici ono je uodnjača radio i uodnji imate nalog sada imate papiro mi imate papiro jo da bohat je rekao da je sve što je na studiju je status Tvo to je rekao svoji sudski spor da je to status Tvo No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Non c'è via la cesta. Non c'è! C'è mi chiamato a non c'è via la cesta? C'è? Un metro? Non c'è via la cesta. 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 Non c'è via la cesta.